Ciao amiche, ciao amici, ben trovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi video su tre prodotti beauty a marchio Lidl, a marchio quindi Sien, o comunque prodotti che vengono venduti esclusivamente da Lidl. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è questo sapone liquido premium al pepe nero a base di ingredienti pregiati, fragranza decisa e speziata, sapone liquido premium al profumo di pepe nero, le note speziate e decise del pepe nero offre una coccola quotidiana per la pelle e per i sensi, deterge delicatamente le mani e contribuisce a mantenere l'idratazione della pelle grazie alla selezione di ingredienti ricercati. Allora, questo prodotto qua è un sapone mani, ha un prezzo intorno ai 3 euro per 500 ml di prodotto. In realtà mio marito lo utilizza come bagnoschiuma perché gli piace tantissimo questa fragranza al pepe nero ed è davvero buonissima e persiste sulla pelle. Ovviamente in questo caso io consiglio, cioè noi siamo abituati a utilizzare poi sotto la doccia un detergente intimo a parte, lui lo utilizza per lavarsi il corpo utilizzando un altro prodotto poi per le zone specifiche, ma è davvero un prodotto super super valido. Esiste in altre due varianti che vedrete, una la vedrete nei prodotti finiti che è la variante che ho finito appunto di provare io, ma questa ve la volevo consigliare perché secondo me tra le tre varianti è quella che ha quella marcia in più. Io sicuramente comunque sia continuerò a comprare questo e ciclicamente anche le altre varianti. Poi parlando di igiene intima, un altro prodotto che vi consiglio a marchio Lidl è questo di Cien. Questo gel detergente intimo a base di aloe e pH 4.5. Sono 500 ml di prodotto a 6 mesi di pao dalla sua apertura. È un detergente intimo molto delicato e qui mi vado a spiegare. Se avete particolari problemi, particolari esigenze sicuramente non è il detergente intimo che fa per voi. Ma se siete alla ricerca di un detergente intimo normalissimo, banalissimo, non avete nessuna pretesa, non avete nessuna esigenza particolare, nessuna problematica particolare, Io questo ve lo straconsiglio perché mi ci trovo benissimo anche durante i giorni del ciclo, non mi dà nessun tipo di fastidio. Tra l'altro è un prodotto secondo me multitasking perché si riesce con questo prodotto qua volendo a lavarsi tutti quanti, a lavarsi le mani, a lavarsi anche tutto quanto il corpo. Quindi magari uno che viaggia porta questo e via, proprio perché è un detergente intimo molto delicato. Non con questo che non vada a fare il suo lavoro, però non è proprio un prodotto con componenti particolari per particolari problematiche. Quindi io questo ve lo straconsiglio perché sono 500 ml, non costa neanche 2 euro ed è un prodotto validissimo. Al suo interno ve l'ho detto ha l'aloe. Per chi come me avesse problemi a utilizzare prodotti con l'aloe, vi dico che in questo caso non dà nessun problema perché l'aloe è posizionata proprio quasi alla fine dell'inci, quindi la sua percentuale deve essere davvero minima. A me piace tantissimo, mi piaceva ovviamente, ovviamente, mi piaceva molto di più quello che c'era prima rispetto a questo, ma questo secondo me va super super bene, soprattutto quando si è tanti in famiglia che se ne consumano alle trate di questi prodotti. Un altro prodotto, l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare, sono questi archetti della Dentalux, un marchio rivenduto sempre da Lidl. Sono questi archetti interdentali che hanno proprio, diciamo, questa impugnatura con il filo interdentale attaccato in questo modo. Questo consente di andare a fare una curata pulizia dei denti in maniera molto più agevole e in maniera soprattutto meno fastidiosa rispetto al classico filo interdentale perché infilarsi questo filo interdentale, infilarsi quindi tutte le mani in bocca, può risultare fastidioso. Ad esempio, a me dava molto fastidio, ma utilizzavo il comune filo interdentale. Mio marito proprio ha sempre odiato il filo interdentale. Lui aveva dei grossi problemi nell'utilizzo del filo interdentale e scoprendo questi archetti, in realtà utilizzandoli di un'altra marca, si è trovato davvero bene. Poi negli anni ho trovato questi alla Lidl. Io questi ve li consiglio perché sono 64 fili interdentali, sono archetti interdentali, esistono nella variante bianca classica ma anche in una variante verde con l'essenza appunto di menta e costano 1,69 euro, 1,79 euro giù di lì. Ad esempio quelli dell'Oral B, io li ho visti, sono leggermente più grandi, li ho anche comprati in passato, sono, che so, 10-15 per busta ad un prezzo che varia tra i 3 e i 4 euro euro. Quindi non c'è assolutissimamente paragone. Quindi detto questo, io vi consiglio questi tre prodotti a marchio Lidl, testati, stratestati, provati e riprovati. Ve li consiglio, io vi saluto, un bacio a tutti, alla prossima!